Il cinema è tornato sul Lago Maggiore, terminano oggi le riprese della fiction La Fuggitiva che sarà in primavera in prima visione tv su Rai 1, protagonista Vittoria Puccini, uno dei volti del cinema italiano più amati dal grande pubblico. Una quarantina le comparse ingaggiate qui sul territorio per 80 persone in tutto coinvolte nelle riprese. Di nuovo Film Commission torna sul Lago Maggiore, spero che la soddisfazione sia reciproca. La soddisfazione è tanta perché noi cerchiamo di coinvolgere tutto, tutto il territorio della regione Piemonte che sia vissuto e valorizzato dalle produzioni cinematografiche e televisive. È la missione che cerchiamo di fare lavorando tutti i giorni nel rapporto con i produttori nazionali e internazionali. Questo è un territorio strepitoso per quello che riguarda le location ma anche per quello che riguarda l'accoglienza e le persone che lavorano in questo territorio, in tutti gli ambiti. Quindi è un grande piacere avere una grande produzione televisiva per Rai 1 con una casa di produzione, compagnia leone cinematografica, con cui non è la prima volta in cui si lavora con grande piacere. E quindi siamo felici di avere un progetto di rilievo con Vittorio Puccini, con un cast tecnico e artistico importante, al lavoro in questi luoghi, in un paesaggio e architetture veramente straordinarie. Possiamo dire che questa fiction è un po' il segno della ripresa dopo il lockdown? Sì, assolutamente. Noi abbiamo interrotto le riprese per il lockdown e con grande energia e voglio di continuare come segnale abbiamo continuato le riprese di questa serie che vedremo su Rai 1 in primavera e ritornando dove avevamo pensato di venire, grazie all'aiuto e alla collaborazione della Film Commission, dell'autorità e delle istituzioni. Quindi il cinema riprende nonostante l'emergenza, nonostante i problemi che ci sono stati? Bisogna assolutamente buttare il cuore oltre l'ostacolo, superare le difficoltà e continuare a lavorare.